Due incidenti stradali in poche ore ad Eboli. Il primo si è verificato alle 13 di ieri in località Madonna delle Catene. L'altro incidente nell'area del centro commerciale Le Bolle, intorno alle 16. Il primo impatto, quello più grave, ha visto protagonisti un furgone di un artigiano ebolitano scontrarsi con un pasticcere centauro di 37 anni a ridosso dell'epitaffio. Ad avere la peggio è stato il motociclista che ha riportato danni alla gamba e al bacino. Immediati soccorsi con un'ambulanza del 118 e la polizia municipale del comandante Mario Dura. Il giovane è stato adagiato sulla barella ed è stato condotto al vicino ospedale. I sanitari si sono riservati da prognosi. Il paziente è stato ricoverato in ortopedia e sarà operato nelle prossime ore. Il conducente del furgone invece ha riportato contusioni varie. Il secondo incidente è ieri pomeriggio intorno alle 16 nell'area degli impianti sportivi, nei pressi del centro commerciale Bolitano. Due le auto coinvolte, una Fiat Punto e una Renault. Sul posto sono giunti i carabinieri agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli. I due feriti hanno riportato politraumi e sono stati medicati e curati dai sanitari e trasferiti in ospedale. Sarebbero state acquisite le immagini per condurre le indagini anche tramite le telecamere del centro commerciale. Per fortuna, visto il violento impatto, i due conducenti dei veicoli convolti nell'impatto non hanno riportato gravi conseguenze.